Salve a tutti, pre-partita di Altavanta-Monza, ultima di campionato, intanto la Fiorentina ha vinto col Sassuolo ma non ci potrà più raggiungere, quindi Monza che ha la possibilità forse del nono posto, non gli servirebbe a nulla e proprio per questo sarà la partita difficilissima proprio per questo motivo. Vediamo come affronteremo questa partita, per noi invece è importante perché non sappiamo i risultati di Juventus e Roma che ci potrebbero soppassare o addirittura raggiungere e comunque una vittoria sicuramente ci garantirebbe l'Europa League. Sarebbe una gran festa per domani, spero che i giocatori lo capiscono anche a livello di pubblico che vuole salutare l'Atalanta, un'Atalanta che ha fatto difficoltà, quest'anno pensavamo un po' meglio nella partenza che ha avuto l'Atalanta, poi dopo le prime partite un po' difficili con Inter e Milan ha faticato, da parte la Cremonese che abbiamo pareggiato con difficoltà, ma poi per il resto avevamo fatto dei buoni risultati. Dopo con l'Inter, direi l'Inter e Napoli ci hanno un po' tagliato le gambe, poi è arrivata la sosta mondiale e quindi abbiamo poi ricominciato e speravamo un po' di cambiare il trend del girone di ritorno, invece non è stato così. Più che altro abbiamo fatto buone partite importanti e delle partite che invece abbiamo perso in casa, soprattutto partite che dovevamo portare a casa i tre punti. Niente, parlando della partita di domani, aspettando cosa succederà oggi, comunque partite che non interessano per noi, l'unico vantaggio che potremmo avere sulle altre partite è che la Sospezia dovrebbe tirare fuori ai denti per potersi garantire la Serie A, con un Verona che invece gioca con il Milan, che ha alternato tante partite in campionato, anche con squadre abbastanza abbordabili e perdendo. Vedremo cosa succederà in fondo alla classifica. Per l'Atalanta sembra che sia confermati nelle fasce Zappacosta e Mele, quindi dietro non credo che giochi di Miral, anche se a me piaceva, vedremo che fine fa quest'anno, a seconda delle destinazioni di Gasperini e quindi credo Sportiello che giochi, però non so, io non ho guardato le formazioni, quindi sono formazioni che ipotizzo io. Davanti, Lucman vuole giocare dal primo minuto, speriamo che entri e possa anche segnare. Vediamo, Monza ha fatto delle grandi partite, poi è andato a perdere con Lecce ultimamente, però non ho visto le partite del Monza, però dicono che giochi abbastanza bene, ovviamente conta sempre il risultato. Quindi chiudiamo in questo campionato? Niente video che faremo alternativamente quando avrò voglia, perché comunque vedo che le isolazioni sono molto scarse nei miei video, quindi certo io lo faccio anche per divertimento, però dopo stai via anche a guardare un po' le statistiche dei tuoi video. Quindi niente, vedere che vada, non vada eccetera, ovviamente per tutti incrementa un po' la voglia di farlo. Quindi niente, ricominciamo comunque dopo l'estate, vedremo un po' magari di fare dei video sul calciomercato, perché adesso andranno tutti in vacanza, quindi sarà un mese diciamo di pausa con eventualmente il calciomercato e basta. Poi ricominciremo, magari ci saranno un po' di amichevoli. Comunque niente, prima di questo vedremo come andremo con Atalanta-Monza. Ecco, io spero, al di là del risultato, ma spero soprattutto uno, che quella cavolata del tifo che vuole fare lo sciopero ai primi 20 minuti, non capisco, è importante, forse una delle poche squadre appunto di Serie A che è importante la partita, è importante che anche ci sia il tifo. Sì, sì, ho sempre detto e condiviso il fatto che è una cosa assurda quella di aver squalificato la curva Nord, secondo me per una cavolata, però adesso bisogna dare supporto alla squadra, quindi speriamo che ci sia il tifo fin dal riscaldamento. Invece vogliono proprio lasciare anche, non entrare nello stadio. Tutte le loro ragioni, ecco, questo sicuramente. Per quanto riguarda invece Atalanta, speriamo che faccia una bella partita, al di là del risultato, ci faccia vedere una bella partita, concluda nel migliore dei modi. Poi, quel che Europa è Europa, quel che sarà del tipo di Europa, lo vedremo dal risultato, che appunto indipendentemente da questo vorrei vedere una bella partita. E niente, intanto siamo a sabato, quindi vi auguro un buon weekend e niente, ci sentiamo poi per il post partita eventualmente.